ciao a tutti i ragazzi del green power questo vi faccio vedere adesso l'interno della barca in una tipica giornata di bolina computer con tutti gli strumenti la mitica cucinetta poi io quando voglio fare un riposino mi metto qua chiudo gli occhi un momento sveglio guardo tutto a portata di mano ecco